Facciamo un bilancio di questa interessantissima manifestazione. Guarda, siamo molto soddisfatti dell'andamento del torneo, visto che abbiamo avuto 200 iscritti, di cui 60 donne, un tabellone femminile, ma quasi a livelli di 15.000. Le ragazze che giocano questo torneo sono in preparazione per il 15.000 che si svolgerà all'Aquila. Da domani ci trasferiamo all'Aquila, dove sarà la prima giornata dell'internazionale 15.000 dollari femminile. Tantissime le ragazze, ovviamente molte le italiane, ci fa piacere con la speranza che possano prendere punti per la classifica internazionale. Anche tante ragazze dall'estero, c'è anche una ragazza dal Cile, in questo momento con il Covid Sud America non è semplice arrivare. C'è una ragazza dall'Argentina, negli Stati Uniti, in diversi paesi europei, quindi un gran bel successo. Tra gli abruzzesi? Tra gli abruzzesi abbiamo Anastasia Grimasca, che è di Pescara, oramai pescarese a tutti gli effetti, è il numero 8 a livello di tabellone principale. Poi ci sono due ragazze del Terramano, Artimedi e Lanciaprima, una ragazza della provincia di Chieti, Beatrice Caruso. Grazie a tutti.